Saranno 38 su 50 i comuni della provincia di Pesaro Urbino convocati sabato 8 e domenica 9 giugno ad eleggere nuovo sindaco e nuovo consiglio comunale. Le urne apriranno sabato alle 15 e si chiuderanno alle 23 per poi riaprire alle 7 di domenica mattina e chiudersi in serata alle 23. Subito dopo alle 23 inizierà lo spoglio delle affiancate elezioni europee dalle 15 di lunedì 10 giugno via allo spoglio delle elezioni amministrative. Per le elezioni comunali i cittadini chiamati al voto troveranno una scheda di colore azzurro con la disposizione di liste e coalizioni elencate dopo preventivo sorteggio. Pesaro, Fano e Urbino sono i tre comuni in cui è prevista la possibilità di ballottaggio. Ovvero se un candidato sindaco non raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, ovvero il 50% più uno delle preferenze, si tornerà a votare per il ballottaggio fra i primi due classificati domenica 23 e lunedì 24 giugno. Non è previsto il ballottaggio in tutti gli altri comuni della provincia nei quali per essere sindaco sarà sufficiente avere il massimo delle preferenze. Sulle schede elettorali si potrà esprimere il voto sia un sindaco che ha una lista ad esso collegata. In alternativa si può votare anche solo la lista e il voto andrà automaticamente al sindaco collegato. Nei casi di Pesaro, Fano e Urbino si può esprimere il voto disgiunto, ovvero votare un candidato sindaco è una lista non collegata a questo. Il voto dell'elettore sarà dunque diviso tra la scelta del sindaco e quella dei consiglieri comunali. Per votare i consiglieri comunali l'elettore può anche esprimere due voti di preferenza, scrivendo il cognome del candidato negli appositi spazi, ma le due preferenze dovranno per forza riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda scelta. Per i comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti non sarà possibile esercitare il voto disgiunto. Pesaro e da questa elezione anche Urbino, in quanto capoluoghi di provincia, eleggeranno 32 consiglieri comunali. Fano ne leggerà 24, Vallefoglia 16, mentre tutti gli altri comuni oscilleranno fra i 10 e i 12 consiglieri.